Allora una partita molto equilibrata nella parte iniziale, visto anche la classifica delle due squadre, una partita importante per tutte e due. Poi è venuto fuori l'FC Matese, anche nel secondo tempo ha ben tenuto dopo i due gol. Devo dire una cosa, un esposito eccezionale anche oggi, che ha fatto belle giocate. Un complimento ha fatto Mr. Corrado Urbano, perché in queste giornate ultime abbiamo rivisto un po' il calcio di Mr. Corrado Urbano, veloce sulle fasce, molto tecnico, ma soprattutto compatta la squadra. Quindi ritengo che il risultato sia meritato da parte dell'FC Matese.